Hai mai chiuso gli occhi? Hai mai provato a ricordare il mondo quando avevi dieci anni? Le auto, le case, i vestiti, la musica, le feste... Ora apri gli occhi e ribalta il ricordo in avanti. Benvenuto nel futuro. Il 6-7-8 maggio a Villa Erba a Cernobbio, sulle rive del lago di Como, il primo festival intitolato al futuro. Incontri e scontri, concerti e spettacoli, laboratori e animazioni. Tutte le storie che raccontano di un futuro sostenibile. NOW, festival del futuro sostenibile. Perché vivere bene è bellissimo.